Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 27 aprile. Ariete, una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza, grazie al transito della luna in leone. Ruolo centrale in pubblico, carisma, padronanza dei gesti, controllo emotivo, una logica che non fa una grezza, autostima in crescita. Toro, come di consueto, la luna in leone prospetta una giornata mutevole, a rischio di incomprensioni, anzi e soprattutto sul fronte domestico. Non basta un colpo di mano per mettere ordine nel caos o risolvere una questione delicata, ci vuole tolleranza. Gemelli, sotto l'egida della luna in leone, come d'incanto, i progetti di lavoro, di amore e di amicizie oggi procedono senza intoppi. Flirt accattivanti, siete in grado di realizzare qualunque desiderio, ma non dimenticate che esistono anche gli altri. Cancro, se avete intenzione di fare acquisti, magari per la casa o per la vostra attività, oggi è un giorno decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro da investire nei progetti che vi stanno a cuore. Leone, siete carismatici, brillanti, splendenti. Potete infischiarvene di quello che dicono o fanno gli altri e procedere dritti per la vostra strada. Vivacità e socievolezza. Divertitevi mettendo in scena il vostro personaggio più accattivante. Vergine, il lavoro procede spedito, anche se l'esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con cura costante ad ogni vostra faccenda. Chiarite una questione controversa. Realizzate un'idea operando con il vostro naturale discernimento. Bilancia, il transito della luna in leone risolleva rapidamente il vostro umore. Vitalità, entusiasmo, comunicativa, immagini e successi sociali intoccabili. Inviti e sorprese aglieteranno questa giornata e in serata una performance teatrale da non perdere. Scorpione, la luna in leone fomenta nervosismo e insofferenza, ma dagli amicizi arrivano segnali di disgelo, opportunità, proposte e interessi consolatori. Non date un calcio a un'occasione concreta solo per inseguire traguardi effimeri o un sogno. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Incesività, mordente, forza di persuasione, state godendo di una meritata popolarità. In risalite il fascino, unico consiglio, calma. Capricorno, desiderate rompere la monotonia? Le occasioni migliori spettano a chi sa osare. Un'avventura extra regala brividi ed emozioni in quantità industriale. Cambiamenti sostanziali e promozioni sono nell'aria. Al momento dovete solo mordervi la lingua. Acquario, oggi decisamente sembra che voi e gli altri parliate una lingua diversa, per cui ci vorrà molto impegno per non fraintendere o essere fraintesi. Evitate lo shopping, non siete in vena di fare acquisti interessanti né tantomeno a buon prezzo. Pesci, sappiate sfruttare le piccole occasioni sul lavoro. Oggi è un giorno fortunato, se ne manifesteranno parecchie e del tutto inaspettate. In serata cercate di organizzare qualcosa con i colleghi, servirà a conoscerli meglio e a sondare il terreno. Grazie a tutti.